E' un mistero in piena regola la scomparsa da Favara di Jessica Lattuca, la giovane mamma, 27enne di 4 figli, di cui si sono perse le tracce lo scorso 12 agosto. A nulla finora sono valsi gli appelli della madre, della giovane e anche del sindaco di Favara, Nalba, che hanno esortato a parlare chiunque avesse delle informazioni al riguardo. Ieri nel comune agrigentino sono arrivati risse di Messina e due unità cinofile molecolari per la ricerca, questa volta specialistica. Coinvolti nelle indagini anche i carabinieri della tenenza di Favara e quelli del nucleo investigativo di Agrigento, che su disposizione del sostituto procuratore di Agrigento, Polo Avetro, hanno perquisito la proprietà di campagna incontrata a Burraiotto, dell'ex compagno della donna, nonché padre dei suoi bambini, Filippo Russotto. L'uomo al momento non risulta indagato e l'inchiesta per la scomparsa della donna è ancora contro i gnoti. In realtà la procura nelle ultime settimane ha modificato il fascicolo e si ipotizza, ma sempre e solo per consentire determinati accertamenti tecnico-investigativi, il sequestro di persona. Sulle pagine di Leggo, l'ipotesi di un sequestro di persona invece è vero e proprio. Jessica sarebbe tenuta segregata per una vendetta nei confronti di Russotto. Questo scrivono. La coppia, sempre secondo quanto scritto su Leggo, era stata più volte a Liegi in Belgio, dove vivono molti favaresi, e dove sarebbe nata una faida per traffici di droghe e di armi. Jessica, in particolare, sarebbe rimasta coinvolta in un giro di prostituzione gestito da Gaspare Michele Volpe, suo ex datore di lavoro, arrestato qualche giorno fa. Sempre secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista, si ipotizza che la donna possa essere ancora viva.